Emergono nuovi spunti investigativi dalle dichiarazioni spontanee rese dal collaboratore di giustizia Cesare Sorio, 37enne di San Pietro Varnotico, arrestato nel blitz dello scorso 12 dicembre che ha portato all'arresto di altre 13 persone per un totale di 25 indagati. L'accusa è quella di associazione a delinquere dedita al traffico e spaccio di sostanze stupevacenti e dalla detenzione di armi e munizioni, attiva tra San Pietro Varnotico e Trepuzzi. Il tutto pare sotto l'ombra della Sagra Corona Unita. Nelle 14 pagine dei verbali vengono citati i nomi scottanti della criminalità organizzata e spiegate dinamiche che la DDA di Lecce aveva intuito già da tempo ma che con le rivelazioni di Sorio potrà approfondire maggiormente. In pratica il nuovo collaboratore di giustizia ha ammesso i fatti che li sono stati contestati e per i quali è finito in manetta. Conferma di essere un uomo di fiducia di Fabrizio e Jimmy Hannis a capo del sodalizio per gestire il traffico di droga nel sud brindisino per conto dei quali deteneva la cassa comune e si occupava del traffico dello stupefacente. Inoltre asserisce di avere facoltà di svelare dei rapporti con altri gruppi criminali operanti a Doria, Erche, Brindisi, Sandona, Cicellino San Marco e poi ovviamente San Pietro Varnotico e Trepuzzi. Sorio parla anche dell'acquisto di armi presso un campo sosta nell'Eccese descrivendo dinamiche e citando nomi di cui è a conoscenza. Nomi sia iscritti nel registro degli indagati che non ma che sono già noti alle forze dell'ordine. Tra questi spiccano Giovanni Donatiello e i fratelli Bruno. Un passaggio interessante viene fornito anche in relazione alle truffe nel campo edilizio. Secondo Sorio, quando Fabrizio Hannis è tornato in libertà avrebbe assunto anche il controllo nel settore dei rimborsi 110. Infatti, nei giorni scorsi sono stati scritti nel registro degli indagati sei persone sequestrati 4 milioni di euro in un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di San Pietro Varnotico. Insomma, si parla di una sacra crononita estesa in più settori e ben radicata nelle province di Brindisi e Lecce attorno alla quale proseguono mirate indagini per consegnare alla giustizia altri personaggi di spicco e liberare il territorio dalla criminalità organizzata.